ho trovato degli adulti di crisolina americana su rosmarino e mi stavo divertendo a fare delle foto macro però facendo attenzione ho visto che sul su uno dei rametti di rosmarino era presente una larva vi farò vedere la larva e poi gli adulti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.